La Camusso è andata a trovare i lavoratori dell'Ocean di Ponticelli e ha detto che bisognerebbe che le istituzioni locali dicessero cosa ne pensano del fatto che la grande istituzione stia lasciando questo territorio. È necessario che in situazioni del genere tutti prendano posizioni chiare? Mi spiace, forse noi hanno rappresentato la posizione che sin dall'inizio non a distanza di giorni ha avuto l'amministrazione comunale in difesa dei lavoratori ma dico di più non è solo la solidarietà. L'assessore Panini su mia indicazione il giorno stesso della bruttissima notizia che è venuta da Ocean che lasciava via Argin a Ponticelli a Napoli l'assessore Panini ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori. Lo stesso io nei prossimi giorni ho in programma un incontro, abbiamo anche scritto, ho incontrato addirittura i rappresentanti dell'azienda. Forse se si seguono un po' meglio le questioni cittadine anche da lontano ci si rende conto che almeno il Comune di Napoli è sempre molto vicino a tutti i lavoratori e le lavoratrici anche quando le vertenze non sono dell'amministrazione. Quindi anche per Ocean noi faremo la nostra parte per quello che può fare il Comune ma sicuramente esprimiamo disappunto per il fatto che una grande catena di distribuzione lasci Napoli che è una città dove invece tantissimi stanno investendo. Devo dire anche tanti napoletani, imprenditori napoletani che voglio ringraziare stanno investendo nella grande distribuzione compreso in via Argin. Questa è un'altra operazione che possiamo mettere in campo, cioè provare a transitare i lavoratori in coloro che magari faranno attività economica laddove Ocean è andata e altri invece hanno la voglia, la passione e il coraggio di investire e che io ringrazio.